Faccio io, non mi preoccupate, poi facciamo tutto un conto alla fine. Cappuccio brioche, due cappucce, due brioche, una birra medio chiara e un panino col cinghiale. Oh, devo guidare. 9,90. Tenga pure il resto. Grazie. Un caffè e un ventaglio? Grazie. Mi dia anche una bottiglietta d'acqua, naturale. Non ci posso credere! Non ci posso credere, la signorina del navigatore! È il giorno più bello della mia... Cercavo in te la tenerezza che non ho, la contattazione che non so, trovare in questo mondo stupido. Quella persona... Ti prego, ti prego, ti prego! Ve lo fai! Invertire il senso di marcia è la mia preferita! Appena posso dire, invertire il senso di marcia. Se non la smette, immediatamente chiamo i carabinieri. E non sto scherzandolo. E non sto scherzandolo. Tra 500 metri, sbottare a destra. Tra 400 metri, sbottare a destra. Pagli, tocco! Tra 500 metri, sbottare a destra.